ma si è calato tutte le lasagne si tutto lui si è mangiato tutto lui le lasagne si senti ma me l'hai chiesto a me quelle o le mie c'è 3 porzioni ci sono però se non se ne mangiavano altre più erano 4 fino al primo siamo andata bene le lasagne buonissime ora che c'è ora che c'è di mangiare ma lo so dice che ora portano qualcosa ma sempre quella 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 vara tu svincia svincia comunque questa scena meravigliosa fino a ora vi faccio conoscere lui non mi ricordo come si chiama guardate che bello ciao ciao vabbè amore finora è andata bene vediamo io mangio io no tu guardi tu odori tu odori io mi cavo ma com'è è agatha agatha è sua moglie è sua moglie l'accompagna a casa d'aga da questo amore ringrazio è solamente che è il mio amore è suo amore la volta vieni solo è tua moglie te ne vandi ma che vando è sua moglie è una bella donna comunque è una bella donna è avara ma è una bella donna l'accompagna d'aga da casa ecco no vabbè no vabbè no vabbè ciao amore ma da dove è uscita questa ma che risagio è l'olipasto è una beffana che ha perso la scopa capita sai perché perché siccome noi andiamo all'insaputa loro quindi possiamo trovare chiunque c'è Maria grazia è contenta che siamo sei contenta che siamo qua ma felice ma te l'aspettavi il nostro arrivo ma manco per niente ma manco per niente ma manco per niente ora piombiamo ora piombiamo sì ma non va putta la pianta per il prossimo padrone di casa sicuramente saranno i miei amici che mi fanno lo scherzo perché sanno che mi piacciono i morti di fa eh infatti infatti lui mi ha detto ma sicuro che è questa la casa ma tu cosa gli hai detto al citofolo non ti di fa ha detto vabbè c'è non ci ha creduto completamente qua stanno venendo ma che è no vabbè no c'è altro mangiare è stato mangiato là vabbè ci avviciniamo dopo stanno venendo Grazie.